Vorrei che fosse Maria in persona a entrare in casa vostra, a spalancarvi la finestra e a darvi l'augurio di buona Pasqua. Un augurio immenso quanto le braccia del condannato, stese sulla croce o librate verso i cieli della libertà. Molti si chiedono sorpresi perché mai il Vangelo mentre ci parla di Gesù apparso nel giorno di Pasqua a tantissime persone come la Maddalena, le Piedonne, i discepoli, non ci riporti invece alcuna apparizione alla madre da parte del figlio risorto. Io una risposta ce l'avrei perché non c'era bisogno, non c'era bisogno, cioè che Gesù apparisse a Maria perché lei, l'unica, fu presente alla risurrezione. I teologi per la verità ci dicono che questo evento fu sottratto agli occhi di tutti, si svolse nelle insondabili profondità del mistero e nel suo attuarsi storico non ebbe alcun testimone. Io penso però che un'eccezione ci fu. Maria, l'unica, dovette essere presente a questa peripezia suprema della storia, come fu presente l'unica al momento dell'incarnazione del verbo, come fu presente l'unica all'uscita di lui dal suo grembo virginale di carne e divenne la donna del primo sguardo su Dio fatto uomo. Così dovette essere presente l'unica all'uscita di lui dal grembo virginale di pietra, il sepolcro, nel quale nessuno era stato ancora deposto, e divenne la donna del primo sguardo dell'uomo fatto Dio. Gli altri furono testimoni del risorto, lei della risurrezione. Del resto, se il legame di Maria con Gesù fu così stretto, che ne ha condiviso tutta l'esperienza redentrice, è impensabile che la risurrezione, momento vertice della salvezza, l'abbia vista dissociata dal figlio, sarebbe l'unica assenza e resterebbe, per di più, un'assenza stranamente ingiustificata. A darci conferma comunque di quanto la vicenda della madre si è incastrata con la Pasqua del figlio, ci sono nel Vangelo almeno due pagine in cui la frase terzo giorno, sigla cronologica che designa la risurrezione, riferita alla presenza, se non proprio al protagonismo di Maria. La prima pagina è di San Luca, racconta la scomparsa di Gesù dodicenne nel Tempio e il suo ritrovamento al terzo giorno. Gli studiosi sono ormai concordi nell'interpretare questo episodio come una profezia velata di quanto sarebbe accaduto in seguito ai discepoli, nel tempo in cui Gesù compì il suo passaggio da questo mondo al Padre, sempre a Gerusalemme, in una Pasqua di tanti anni dopo, si tratterebbe cioè di una parabola allusiva alla scomparsa di Gesù dietro la pietra del sepolcro e al suo glorioso riapparire dopo tre giorni. La seconda pagina è di San Giovanni, riguarda le nozze di Cana, durante le quali l'intervento di Maria, anticipando l'ora di Gesù, introduce sul banchetto degli uomini il vino della nuova alleanza pasquale e fa esplodere anzitempo la gloria della risurrezione. Ebbene, anche questo episodio è introdotto da un marchio di origine controllata, il terzo giorno. Maria, dunque, è colei che ha a che fare col terzo giorno, a tal punto che non solo è la figlia primogenita della Pasqua, ma in un certo senso neanche la madre. Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno della roccia, e l'annuncio che è Pasqua pure per noi, vieni a portarcelo tu, nel cuore della notte. Non aspettare i chiarori dell'alba, non attendere che le donne vengano con gli unguenti, vieni prima tu, coi riflessi del risorto negli occhi e con i profumi della tua testimonianza diretta. Quando le altre Marie arriveranno nel giardino con i piedi umidi di ruggiada, ci trovino già desti e sappiano di essere state precedute da te, l'unica spettatrice del duello tra la vita e la morte. La nostra non è mancanza di fiducia nelle loro parole, ma ci sentiamo così addosso i tentacoli della morte che la loro testimonianza non ci basta. Essi hanno visto, sì, il trionfo del vincitore, ma non hanno sperimentato la sconfitta dell'avversario. Solo tu ci puoi assicurare che la morte è stata uccisa davvero, perché l'hai vista esanime a terra. Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che nonostante tutto la morte non avrà più presa su di noi, che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati, che i bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari, che le sofferenze dei poveri sono giunti agli ultimi rantoli, che la fame, il razzismo, la droga sono il riporto di vecchie contabilità fallimentari, che la noia, la solitudine, la malattia sono gli arretrati dovuti ad antiche gestioni, e che finalmente le lacrime di tutte le vittime delle violenze e del dolore saranno presto prosciugate come la brina dal sole della primavera. Santa Maria, donna del terzo giorno, strappaci dal volto risulario della disperazione e arrotola per sempre, in un angolo, le bende del nostro peccato. A dispetto della mancanza di lavoro, di case, di pane, confortaci col vino nuovo della gioia e con gli azimi pasquali della solidarietà. Donaci un po' di pace, impediscici di intingere il boccone traditore nel piatto delle erbe amare. Liberaci dal bacio della vigliaccheria, preservaci dall'egoismo e regalaci la speranza che quando verrà il momento della sfida decisiva, anche per noi, come per Gesù, tu possa essere l'arbitra che il terzo giorno omologherà finalmente la nostra vittoria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.